Come primo prodotto realizzeremo una lettera. Questo è il risultato che vogliamo ottenere. Come vedete c'è un'intestazione, ci sono caratteri di formato e colore diversi, ci sono immagini, ci sono parti sottolineate, elenchi puntati e numerati, ecc. Iniziamo quindi dal menu file aprendo un nuovo documento, nuovo ovviamente documento di testo. Questa è la pagina che ci si presenta. Per prima cosa vogliamo stabilire il formato della pagina su cui andiamo a lavorare, per cui apriremo il menu formato pagina. Si apre una finestrina a schede. In ogni scheda si può scegliere una caratteristica della pagina. Per esempio lo sfondo, la riga di intestazione e il piedipagina, il bordo, le note, ecc. Se volessimo per esempio scrivere su una pagina colorata, sceglieremo sfondo, poi il colore, per esempio questo, e diamo l'ok. Se volessimo anche inserire dei bordi alla pagina, sempre dal menu formato pagina, sceglieremo bordo, in questa finestra la forma del bordo, per esempio questa, il colore del bordo, e la posizione se su un lato o su tutti e quattro i lati. Diamo l'ok e questa è la pagina che abbiamo ottenuto. Nel nostro caso non vogliamo scrivere su una pagina colorata. Ricordate sempre che qualsiasi azione si può annullare attraverso il menu modifica, annulla. Abbiamo annullato i bordi, poi ancora annulla e abbiamo annullato lo sfondo. Noi cerchiamo di modificare i margini, quindi dal menu formato pagina, cerchiamo, clicchiamo su pagina. Qui c'è il formato del foglio su cui andiamo a scrivere. Il formato A4 è il normale foglio che si inserisce in una stampante. Possiamo cambiare le dimensioni con queste frecce, aumentando o diminuendole, e vedremo l'utilità di questa funzione quando faremo prodotti diversi, per esempio biglietti di invito, eccetera. In questo caso noi lasciamo A4, ci limitiamo a cambiare la dimensione dei margini rendendoli più ampi, quindi ampliamo il margine di sinistra, lo portiamo a 3, e il margine di destra sempre A3. In questo modo la lettera è più raffinata. Una volta deciso cosa vogliamo fare, clicchiamo su ok. Ecco qua, il margine si è ristretto. A questo punto possiamo incominciare a scrivere. Il nostro consiglio è di scrivere senza troppo preoccuparsi del formato che elaboreremo una volta finita la lettera. Questa è la lettera scritta col formato E di carattere e paragrafo di default. Una volta scritto, incominciamo a lavorare sul testo. Per farlo occorre evidenziare le parti che vogliamo modificare. Prima di tutto vogliamo modificare il carattere di tutta la lettera, per cui la cosa più conveniente è scegliere il formato modifica e seleziona tutto. In questo modo tutta la lettera è selezionata. Scegliamo poi il menu formato carattere. Anche in questo caso si apre una finestra a schede dove possiamo scegliere il tipo di carattere, lo sfondo, la posizione, eccetera. Scegliamo carattere, in questa finestra scegliamo il tipo di carattere. Io di solito uso in questo caso un carattere che mi piace molto ed è book antiqua. Scegliamo se scrivere in corsivo o in grassetto, ma in questo caso scegliamo normale. E la dimensione di questo carattere e per farla vedere meglio scegliamo una dimensione piuttosto ampia, 16. Una volta scelto diamo l'ok. Ecco la nostra lettera scritta tutta nel carattere che abbiamo scelto. Cambiamo adesso solo alcune parti del testo, per esempio i nomi dei nostri amici. In questo caso si evidenziano i nomi col mouse e sempre attraverso il menu formato carattere scegliamo un altro carattere. Per esempio io ho scelto Curls. Lo facciamo in grassetto, in questo modo i nomi verranno maggiormente evidenziati e cambiamo anche la dimensione. Vogliamo cambiare anche il colore in questo caso e quindi apriamo la scheda effetto carattere. Come vedete la finestra colore carattere è di default posizionata su automatico. Clicchiamo su questa freccina e scegliamo il colore che ci piace, per esempio il magenta. Poi diamo l'ok. Ecco qua i nomi dei nostri amici colorati e in grassetto. Se volessimo fare lo stesso carattere in altre parti della lettera non è necessario rifare tutto il procedimento. basta evidenziare e attraverso quest'icona, l'icona del pennello, che è uno strumento per copiare il formato, la clicchiamo, scegliamo la parte che vogliamo cambiare, ecco ti regala emozioni. E voilà, questa parte viene automaticamente modificata. Come abbiamo copiato il formato attraverso l'icona del pennello possiamo fare quasi tutte le operazioni contenute nel menu formato carattere che abbiamo usato finora attraverso la barra dell'icona, per esempio di qui possiamo scegliere il tipo di carattere, la grandezza, il grassetto, il corsivo, il sottolineato, il posizionamento, l'allineamento, cioè a destra, a sinistra, eccetera. Per esempio, se vogliamo sottolineare una frase, la evidenziamo, perché in qualsiasi operazione si fa solo su un testo evidenziato e possiamo scegliere l'icona S e la parte che abbiamo evidenziato risulta sottolineata. Questa è la nostra lettera col caratteri formattati. Vediamo adesso come introdurre un elenco puntato. Questo è un elenco, lo evidenziamo al solito modo col mouse, apriamo il menu formato, elenchi puntati e numerati, si apre la solita finestra a schede dove noi possiamo scegliere per visualizzare l'elenco delle immagini, dei punti più o meno grandi e di diverse forme, dei numeri 1, 2, 3, eccetera. Scegliamo per la nostra lettera queste stelline rosse, diamo l'ok e questo è il nostro elenco puntato in modo fantasioso. Attraverso il menu formato paragrafo possiamo scegliere diverse opzioni che riguardano i paragrafi, cioè per esempio l'interlinea, la distanza fra una linea e l'altra della lettera. Per farlo occorre prima di tutto selezionare tutto il testo, quindi seleziona tutto, poi formato paragrafo e scegliamo l'interlinea. Normalmente si usa un'interlinea singola ma possiamo scegliere anche altre opzioni. Si può attraverso questo menu scegliere per esempio l'allineamento. Di solito una lettera è allineata a sinistra ma potrebbe essere per esempio anche giustificata, cioè avere a destra e a sinistra gli stessi margini. Per alcune parti, selezionando alcune parti, per esempio potremmo scegliere un allineamento centrato. Qui nella finestra a destra vedete l'anteprima di quello che capiterebbe al vostro testo. Noi lasciamo in questo caso un allineamento a sinistra. Con questo menu ritroviamo le opzioni bordo e sfondo. Tenete presente che quello che abbiamo applicato prima a tutta la pagina in questo caso si applica ai diversi paragrafi della lettera. C'è poi la funzione capolettera che è molto divertente per situazioni particolari. In questo caso è la prima lettera di ogni paragrafo che viene evidenziata e ingrandita. Togliamo questa funzione che non ci serve, diamo l'ok per quello che riguarda l'interlinea e abbiamo così la nostra lettera formattata anche per quello che riguarda il paragrafo. Nella lettera ho utilizzato il nome Eloise perché è scritto con la I con la dieresi, cioè questi due puntini. Questo, come altri caratteri, per esempio la tilde spagnola, l'accento circonflesso, la cediglia oppure altri simboli utilizzati in altre lingue, sono considerati caratteri speciali e non si trovano sulla tastiera. Torniamo alla nostra lettera e vediamo di inserirli attraverso un menu particolare. Evidenziamo la posizione in cui va inserito questo carattere speciale, apriamo il menu Inserisci, Caratteri speciali e si apre questo lungo elenco di caratteri dove con pazienza bisogna cercare quelli che ci interessano. Questa è la I con i due puntini, cioè la dieresi. La clicchiamo, la evidenziamo, che viene visualizzata qui a destra, mettiamo l'ok ed ecco sostituita alla I normale una I con la dieresi. Inseriamo ora qualche immagine per vivacizzare la lettera. Innanzitutto ricordate che l'immagine verrà inserita sempre dove c'è il cursore lampeggiante, quindi occorre cliccare col mouse nel posto dove intendete inserire l'immagine. Noi inseriamo un brindisi nel, dopo la frase, ricordate l'ultima sera prima che partiste. Una volta deciso la posizione, apriamo il menu Inserisci, Immagine, Da file. Questo significa che l'immagine deve essere contenuta in un file nel vostro computer. Infatti si apre la finestra di Esplora risorse, dove dovremo cercare la cartella dove è contenuta l'immagine. In questo caso l'immagine è contenuta nella cartella Laboratori Word. Scegliamo il nome Brindisi e poi clicchiamo su Apri. L'immagine verrà inserita esattamente dove il cursore lampeggia. Se l'immagine è troppo grande, come può frequentemente capitare, possiamo ridimensionarla cliccando sul quadrettino in basso a destra, fino a che il cursore diventa una freccina diagonale. Clicchiamo mentre il cursore ha questa forma e ci muoviamo in direzione diagonale. Questo perché, muovendoci in diagonale, restano uguali le proporzioni dell'immagine, cioè altezza e larghezza. Mentre se ci muovessimo solo in una direzione, per esempio solo in direzione della larghezza, l'immagine verrebbe deformata. Noi la riportiamo nella sua dimensione corretta. L'immagine in questo caso è centrata, ma nel momento in cui è selezionata, cioè l'immagine è circondata da questi quadrettini verdi, può essere trattata come un qualsiasi testo ed essere spostata a sinistra, a destra, oppure, come normalmente si fa, centrata. Inseriamo altre immagini, per esempio qui in fondo, dopo le parentesi arrossisco, clicchiamo e inseriamo una faccina che arrossisce. Immagine, da file, arrossire, apri. Ecco la faccina. Possiamo anche questa rimpicciolirla. Poi, infine, inseriamo qui baci. Inserisci, inserisci, immagine, da file, bacio, apri. Naturalmente io so molto bene dove sono le immagini che voglio inserire nella lettera, cosa che dovete sapere anche voi precedentemente all'operazione di inserimento. Ridimensioniamo un po' questo bacio che è troppo grande e lo allineiamo a sinistra e siccome vogliamo inserire più volte la stessa immagine ci clicchiamo sopra e con questa icona lo copiamo poi in questa posizione l'incolliamo poi in questa posizione l'incolliamo e via tutte le volte che ne abbiamo necessità. Ecco, in questo modo abbiamo una bella fila di baci. Poiché la mittente si chiama Margherita inseriamo le immagini di una Margherita al posto del nome. Come già detto, tutte le immagini che utilizziamo nel testo devono già trovarsi nel nostro computer. Vi consiglio quindi di cercarle in internet e salvarle sul computer dove saranno sempre a vostra disposizione. Vediamo un esempio. Cerchiamo con Google una bella immagine di una Margherita da utilizzare. Clicchiamo su Immagini e scriviamo nella barra Margherita ho scritto correttamente ed ecco che si apre una pagina di immagini di Margherita. Cerchiamo quella che ci piace questa per esempio la clicchiamo poi cliccando col destro scegliamo Salva immagine con nome si apre la finestra di Esplora risorse dove dobbiamo cercare la cartella dove salvare la nostra immagine poi diamo un nome Margherita 1 in questo caso va bene e clicchiamo su Salva ecco l'immagine è portata sul vostro computer torniamo alla lettera e utilizziamo il menu Inserisci immagine da File cerchiamo nella cartella dove abbiamo salvato l'immagine il nome Margherita 1 clicchiamo su Apri ed ecco qui ovviamente l'immagine è troppo grande la ridimensioniamo come abbiamo visto prima la posizioniamo nel posto che ci interessa ecco qua la vostra Margherita che vi pensa sempre vediamo ora con un ultimo passaggio come inserire una riga di intestazione funzione molto utile per creare una carta intestata apriamo il menu Inserisci riga di intestazione predefinito come vedete sopra il testo appare questa riga questa riga è uguale e ripetuta in tutte le pagine della lettera qui noi possiamo inserire quello che vogliamo sia l'intestazione della nostra lettera per esempio il nostro nome Margherita Rossi e come in qualsiasi parte della lettera selezionando noi possiamo scegliere il carattere in questo caso sceglieremo un carattere in corsivo questo per esempio la dimensione del carattere più o meno grande la riga si adatterà alla dimensione del carattere possiamo anche per esempio inserire un'immagine con la stessa procedura di Inserisci immagine da file e possiamo inserire la nostra Margheritina che in questo caso naturalmente sarà troppo grande la rimpiccioliamo la posizioniamo prima del nome e diamo un invio in modo o più invii in modo da allargare la riga di intestazione da poterci inserire la nostra la nostra immagine se non dovesse più servirvi potete togliere la riga di intestazione con lo stesso procedimento menu inserisci riga di intestazione disattiviamo predefinito questa finestra vi chiede se siete sicuri di volerlo togliere perché in questo caso tutto il contenuto viene cancellato diciamo di sì ed ecco la riga di intestazione non c'è più lo stesso procedimento si può fare per inserire anche il piedi pagina in questo caso l'intestazione non sarà all'inizio ma alla fine di ogni pagina questa è la nostra lettera finalmente completata nel dvd la troverete in formato stampabile perché vi serva da esempio nel vostro lavoro passiamo ora a qualcosa di più divertente un biglietto di auguri per Natale grazie